mi raccomando non fare come l'ultima volta ma tu l'hai capito stiamo andando a rapinare una banca eccoci l'ultima volta che hai fatto siamo andati a rubare i soldi e tu ti sei preso le cambiali ma mi parlate di cambiali che l'ultima pagata stamattina quali cambiali pagaste? che gli rubam ma tu stupido sei? hai rubito i cambiali e fai pure me li paghi e mi pare brutto ti pare brutto e magari hai cito pure la chila perché è d'ora già senta a me chi hai? chi hai tu giocatore? no ma tu sei te no fa un respiro profondo dai forza alla fine ecco l'hai visto tutto tranquillo passa tutto questo cielo là ah madonna aspetta respiro profondo e conti fino a te tirato vai 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 perfetto sta fermo sta fermo fermati fermati adesso come va? sto meglio leggiamo allora ascolta facciamo così ok allora vieni qua io vado avanti no? entro e faccio tutti seduti tutti a terra tutta a terra bravo tutta a terra e tu subito appresso questo è la pina tutta a terra tutti a terra io tutta a terra tutta a terra dunque questo è la pina tutta a terra questa a terra a terra schiamiamo e devo andare da bona cammino ve l'ho atteso ma cazzo c'è madonna ma quanta gente shh tranquillo tranquillo tutta a terra questa è la pina tutta a terra tutta a terra tutta a terra a terra a terra a terra a terra 50 euro a terra a terra sono 50 euro io avevo perso qualche cliente eh sì sicuramente ero a terra a terra no 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 ero qua di passato grazie non vi preoccupate li restituisco io grazie tornate ciao ciao arrivederci a terra ma che cavolo commini tutta a terra tutta a terra tutta a terra e tu ce ne hai 50 euro ce ne hai 50 euro ce ne hai 50 euro sentami adesso entriamo e ci ripigliamo 50 euro in più sentami entriamo sei teso no no ma mi fai tutti i video giunghi cammina tutta a terra questa è la rapina tutta a terra questa è la rapina anche tutta a terra è una rapina questa è una rapina questa lasciate stare scusate allora io lavoro in questa banca da 20 anni questo 20 anni da quanto lavoro in questa banca io 10 anni 10 già da quanto lavoro in questa banca io Quanti c'è di c'è stato? Dieci Dieci anni Dieci anni Venti anni Io lavoro in questa banca da vent'anni Dieci e più dieci Venti Che vuoi? Poi sono spiritosi Allora io lavoro in questa banca da vent'anni E non ho visto i contenti crude E scusate Poi si fa così in rapina E come dobbiamo fare? Poi non si fa così in rapina Non potrete entrare subito con quell'aria sospetta E come dobbiamo fare? Hai capito? E come? Allora voglio dire Scusate, scusate C'ho l'esperienza Allora ho entrato in banca Ma pure fischiando, no? Guardate la situazione Tutta a terra Capito? Sì Tu capisci No, no Tu capisci No, no Un consiglio No, no No, no Ne dobbiamo qualcosa? 50 euro 50 euro Ehi, all'inno Grazie Grazie per la gentilezza No, no Salve Salve, salve Mi raccomando tornate a trovarti Sì, 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 tranquillo Mi raccomando Grazie Allora, presto Barnavo da fuoco Salve, salve Ma questo è uno che sa il mestiere Tu vuoi dire come Hai visto come ha detto lui? Passa in un pallaggio Eh, eh, eh Ascordi, tu hai visto come ha detto Facciamo come dice lui Fischiamo Oh Che c'è c'è? Titing 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 È bella movimentata Capitazione Chiamati Tutta a terra Questa è una rabbina Nooo 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 E' che non ci siamo E non ci siamo Ma scusate, scusate Io lo muro in questa pazzola Vent'anni Vent'anni Eh E' una pista di contenti crude E scusate Passami il ferro Posso? Voi entrate in banca Sì E va bene E va bene tutti schiari E va bene tutti a terra Ma intanto con la pistola Bastante E' che muscolate I ornicoli La pistola Va tenuta orizzontale Ah, orizzontale E Dovete minacciare la gente No, questo è un consiglio Parlo contigo, capito? Capito? Eh E scusate Per il disturbo quant'è? Cinquant'è 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 Allè Gentilissimo Gentilissimo Grazie Grazie Salve 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 Eh scusate La pistola Piccola scordanza Quina che volta tornate C'è il pomerale con la mazza Che è tornata Grazie Grazie Salve Pura a casa Saluti Sì, sì Ciao Saluta Ciao 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 Ascolta Facciamo come dice lui Dammi sta pistola Sì Dammela tocca Io L'assaggio Carica No Tanto Allora Entriamo E facciamo con questo orizzontale Fisch Tutto Ok Ci siamo Tutto in terra E ancora non ci siamo E ancora non ci siamo E no ragazzi Scusate se mi voglio bene o come un padre Mi voglio bene io Beh Beh tu no Vabbè Vino stessa Allora scusate Scusate ragazzi Scusate Io ho l'esperienza Lavoro in questa panca da vent'anni Ma non ti state contenti crude Scusate Scusate Voi state entrando in una bag No par Entrata molto scoperta Ma non avete mai visti film Di rapine Sì Sì C'è un'altra camera Eh Eh Però voglio dire ragazzi Qua ci sono le telecamere Ci sono le telecamere Eh Ciao 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 Aspettate Aspettate Ragazzi Ragazzi Aspettate Allora Ragazzi La rapina si fa Con il volto coperto Allora Allora non avete mai visto film O con la calza maglia Ma mettete I mutanti Dovete coprire il volto Guarda lei E' un genio Ma che ci mancherebbe No 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 Che complimento Ci dispiace per il disturbo Quanti è 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro Grazie 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 Tornate a trovare Sì Buon'alata io Ciao 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 Salve 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 Tornate Sì Sì Torniamo Ciao Ciao Salve 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 Ah, buon'è Dio! Colpito e affondato! Ma tu ci vedi qualcosa? Io un peggio in un cazzo! Oh, dove sono? Vieni qua, accéptate il cacca, ya! Madonna mia! Eh, ti va a ser buona che si te rie di... Madonna mia! Vai, oh! Ci siamo? Sì! Uno, due, qui, viene! Siamo altri desordi! Sì! Tutta la terra! Questa è la rapida! Tutta la terra! Questa è la rapida! Tutta la terra! Ma non lo guardate, sono qua! E ancora non ci siamo! Ancora non ci siamo, ragazzi! Ancora non ci siamo! E non ci siamo mai! No, ragazzi, ancora non ci siamo! Voglio dire che io lavoro in questa banca da vent'anni! Io ho visto dei contenti crude! Ragazzi! Abbiamo sbagliato! Ci vuole un pizzico di professionalità! Siete bravi! Ma ancora non ci siamo, ragazzi! Ancora non ci siamo! Mi ha fatto bene il pischiare! E fa bene le cose! Non mi sorti! Non mi sorti! Non mi sorti! Non mi sa caspare! Non mi sorti! Ma aspetta! E quindi ti stavo dicendo! Io lavoro in questa banca da vent'anni! Vent'anni! Guarda che ti faccio fare vent'anni di carcere! Ma come? Perché tu sei un lato! Mi stai rappelando tu e noi! No, andate! Perché io mi sto aiutando! Io faccio i carabinieri! Io mi sto aiutando! Perché sei un lato! Aspettate ragazzi! La pistola! La pistola! La pistola! Allora, se c'è te la c'è la culo! Carabinieri!